Visita del sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Bobba ieri alla Casa del Volontariato di Gela. Nel corso di un interessante dibattito moderato dal sociologo Francesco Pira, è stata affrontata la discussione relativa alla nuova legge per il terzo settore, prospettive e sfide dell'Italia solidale. La rete di associazioni di volontariato che opera in Italia spesso arriva dove non arrivano gli enti pubblici, anche a livello locale, quali sono le prospettive di sviluppo per questo settore? Con la riforma che abbiamo approvato da poco da parte della Camera in via definitiva, noi vogliamo dare uno statuto chiaro a tutto questo mondo perché le istituzioni hanno il dovere programmatico di sostenerne la crescita, lo sviluppo, la qualificazione, perché proprio sono in grado queste organizzazioni di rispondere a tanti bisogni che altrimenti rimarrebbero insoddisfatti, di essere vicini ai cittadini più deboli, di proteggere l'ambiente, insomma di costruire quei beni comuni che fanno la qualità del vivere di tutti. E quindi io credo che la riforma sarà una spinta forte e a riconoscere questa grande realtà e dall'altro lato a qualificarla e a farla crescere. Faremo un registro unico delle organizzazioni, dovremo distribuire in modo diverso i sostegni anche di carattere fiscale, dovremo dare una nuova forma all'impresa sociale, dovremo potenziare il servizio civile. Questi sono gli obiettivi che ci siamo dati e che adesso con i decreti legislativi diventeranno norma operativa. Sarà possibile ad esempio anche per la gestione, ci viene in mente una materia dei beni archeologici o delle aree archeologiche stipulare dei protocolli di intesa con le associazioni, visto che in Sicilia uno dei problemi più importanti riguarda proprio la fruibilità di queste zone? Sì, infatti una delle norme dice che potranno essere affidati a queste organizzazioni, e queste associazioni dei beni di carattere pubblico che magari sono abbandonati, inutilizzati o scarsamente valorizzati proprio perché questo straordinario patrimonio non degradi ancora ulteriormente ma diventi una ricchezza per il Paese. Sfrutti le nostre telecamere, cosa vorrebbe dire all'esercito di volontari che in Italia ha veramente a volte stato anche determinante per la risoluzione di tantissime situazioni soprattutto in caso di calamità naturali? Prima di tutto voglio ringraziarli perché sono diciamo una ricchezza e un sostegno per il Paese. Dall'altro lato direi che la politica sta ascoltando con attenzione il valore di queste realtà per farle diventare una rete ordinaria della vita di tutte le nostre città, di tutte le nostre comunità. Le nostre comunità saranno più belle, più vivibili se avremo anche tante forze volontarie, tante persone che si dedicano all'impegno civico e associativo.